Frasi magari non lo sono secondo me, ad esempio chi non è con me è contro di me, io ho una frase che non condivido, ma comunque Non si sente? No, mi dite che non si sente Sentite o non sentite? Vecchie rincitrullite Si dovrebbe sentire, no? Ma cosa va a scatti? Si dovrebbe sentire, guardate un po', siete voi che non avete la connessione Si dovrebbe sentire, provate un po', si dovrebbe sentire, no perché il microfono è a posto, pensavo che il microfono non fosse a posto Ma invece il microfono è a posto, quindi si dovrebbe sentire, provate un po' a vedere, si dovrebbe sentire, ma il microfono è a postissimo Quindi sentire, si dovrebbe sentire Allora, certo che se avete delle linee wifi che fanno cagare, è ovvio che non si sente Quindi, il concetto di fondo è quello, mai e poi mai cedere, diciamo così, alla... mai e poi mai cedere E mai e poi mai pensare che dando amore si possa ottenere amore Mai e poi mai pensare che chiedere l'amore sia il modo migliore per ottenere l'amore Devi, se vuoi ottenere dei risultati, iniziare a usare, se vogliamo, la legge d'attrazione Iniziare a usare quelli che sono dei meccanismi che invece ti fanno ottenere quello che vuoi Il primo concetto di fondo è per ottenere, diciamo, le cose che vuoi Per ottenere i risultati che vuoi ottenere è imporre delle regole Imporre delle regole e scartare tutte le persone sbagliate, ovviamente Scartare tutte le persone che non ti possono dare quello che tu desideri Intanto non devi scrivere a una persona perché devi cambiare l'abitudine di cercare Devi cambiare l'abitudine di essere, diciamo, come dire, dipendente da una situazione Devi concentrare l'obiettivo sul... devi concentrare le tue energie sull'obiettivo Questo è un po' il segreto, se vogliamo, per essere felici È un po' la cosa importante, la cosa fondamentale per conquistare un uomo o per conquistare una donna Ci sono delle situazioni che devono necessariamente essere utilizzate Ci sono delle tecniche, diciamo, che sono fondamentali per sedurre Che sono fondamentali per ottenere dei risultati che neanche la tua più ferva di immaginazione potrebbe pensare che tu possa ottenere La prima cosa è quella di diventare irriverenti, ovviamente L'irriverenza è fondamentale perché le persone irriverenti, le persone, tra l'altro anche gli uomini Quelli che si comportano da, come possiamo dire, da, diciamo, cavalieri serventi Non riescono a sedurre nessuno Devi imparare a mettere dei vincoli Devi imparare a mettere delle condizioni Il tuo compito è quello di trattare, diciamo, le persone che ti interessano Come tratteresti quelle che non ti interessano Chiediti Fatti questa domanda Solo tanto questa domanda Che ti suggerisco adesso È molto importante Quindi prima metti un like Perché la domanda che ti sto per fare Cioè la domanda che tu dovrai fare È veramente basilare Metti un like E una volta che hai messo il like Se vuoi puoi anche abbonarti al canale Oppure fare una piccola donazione al canale Per dare un sostegno al canale Anche solo un caffè va bene Non fare il solito morto di fame E fare una donazione al canale E quindi la, diciamo, la prima domanda che devi farti Quando incontri una persona che ti piace È la seguente Come mi comporterei se lui o lei mi fosse indifferente? E devi crearti, devi crearti una immagine mentale Perché la legge di attrazione funziona meglio È meglio se tu ti crei un'immagine mentale Quindi ti metti su una cazzo di sedia O ti sdrai Chiudi gli occhi E inizi a vederti il filmino Di come ti comporteresti tu Se questa persona Che ovviamente ti interessa Ti fosse completamente indifferente E devi riviverti nella tua testa Utilizzando anche una tecnica Che si chiama Visual Squash Che come funziona la Visual Squash? È una tecnica immaginativa Che viene usata in PNL Che si tratta di vedere uno schermo Con l'immagine di come tu ti stai comportando adesso Quindi da zerbina Da zerbino Da bisognosa Da bisognoso Vedere l'immagine attuale E poi mettere in un angolino piccolo Del tuo schermo mentale L'immagine in cui Tu invece ti comporti Come se questa persona Ti fosse completamente indifferente E poi fare Si chiama tecnica Del Visual Squash O in italiano Della scozzata Che non è un nome tanto bello Sembra scazzata Ma in realtà è scozzata Ma in inglese Visual Squash In cui praticamente l'immagine FUN Cresce Cresce E va a sovrapporre tutto lo schermo E lo fai più di una volta Per cui Dai Passi al cervello Il comando Smetti di comportarti Come una persona Diciamo Bisognosa Come una persona Che cerca l'amore Come una persona Alla disperata Ricerca dell'amore E inizia a comportarti Invece Come una persona Che non ha bisogno Di cercare l'amore Come una persona Che ha una forza Interiore E Questo vale anche Per le donne ovviamente Ovviamente Devi mettere in atto Anche i comportamenti Pensa Ovviamente Se tu sei donna Pensa tutte le volte Che un uomo Che non ti interessava Magari sostinava A cercarti Perché questa È una regola Fondamentale Le donne O gli uomini Diciamo Adesso parliamo Delle donne Ma poi Mutatis Mutandis Vale anche Per gli uomini Salutiamo Cristina La persona Spontanea Non sembra Bisognosa Se la persona Spontanea Allora Il discorso Della spontaneità È una grande Puttanata Perché Se essere Spontanei Ti porta Dei risultati Allora Viva la spontaneità Cioè Come dire Se io Mi sfamo Con i frutti Che la natura Spontaneamente Mi offre Se i nostri Progettori primitivi Si fossero basati Sulla spontaneità Oggi Sarebbero Tutti morti Di fame E noi Praticamente Non saremo qua Perché Come dire Perché Fondamentalmente Non hanno Diciamo Agito Spontaneamente Hanno Iniziato A sviluppare Le regole Dell'agricoltura Hanno Creato Le serre Hanno Arato Il terreno Hanno Diciamo Hanno Fatto Un sacco Di cose E poi Dopodiché Diciamo Hanno ottenuto Dei risultati La spontaneità Se uno Spontaneamente Manda 50 messaggi Spontaneamente Dice Ti amo Ti amo Ti amo Ti amo Come dire Se lo piglierai In quel posto Cioè La spontaneità Non funziona Se quello che faccio Spontaneamente Mi porta Dei risultati Bene Se quello che faccio Spontaneamente Non mi porta Dei risultati Devo cambiare Devo essere Artificiale Diciamo così Non spontaneo Ma ottenere Dei risultati Questa È un po' La regola Ci sono persone Che spontaneamente Inseguono Che spontaneamente Sono bisognose Ci sono persone Che spontaneamente Diciamo Fanno i cavaliere Serventi E fatelo Ma se la spontaneità È quella Quando qualcuno Mi dice Bisogna essere Spontanei O bisogna essere Se stessi È una grande Minchiata Perché io Sono quel che sono Ma i miei comportamenti Possono variare Se i miei comportamenti Spontanei Diciamo così Mi portano Dei risultati Bene Se i miei comportamenti Spontanei Non mi portano Nessun risultato Devo comportarmi Non spontaneamente Devo comportarmi Secondo strategia Per ottenere Dei risultati Bisogna seguire Delle regole È ovvio Che le donne Ad esempio Emancipate In carriera Di successo Hanno molta più Possibilità Di sedurre Un uomo Rispetto a una donna Bisognosa Dipendente Eccetera Eccetera Quindi Questo È un dato Di fatto Le donne Si lamentano Diciamo E le donne Che si lamentano Di non sedurre Sono quelle Che non riescono A raggiungere Nessun risultato Una donna Di successo Una donna Che non ha bisogno Di un uomo È quella Che riesce A sedurlo Le sottone Quelle che Invece Sono bisognose Non è che Non seducono Ma verranno Sempre considerate Come ruote Di scorta Verranno Sempre considerate Diciamo La seconda scelta Se ti va bene Essere la seconda scelta Va bene Non c'è nessun problema Ma questo È un Punto Fondamentale Se continui A frequentare Ad esempio Persone sposate Sperando che Che lasciano la moglie Come dire Va bene Puoi anche farlo Ma È molto probabile Che invece Te lo piglierai In quel posto Quindi bisogna Non sono le donne Più belle Quelle che Quelle che Riescono a sedurre Le donne più belle Le donne più belle Sono quelle Che riescono A dare Degli stimoli Sono quelle Che riescono A dare Delle emozioni Sono quelle Che riescono Essere Indipendenti Sono quelle Che riescono A fottersene Praticamente E a non avere Dei vincoli Emotivi Una donna Che è circondata Da un'aura Di sicurezza Una donna Che è realizzata Nella vita Nel lavoro Nel danaro Ma sembra strano Ma una donna Realizzata nel danaro Ha più possibilità Di sedurre Di una donna Che invece Ha bisogno Di come dire Non dico Di fare le marchette Ma Del sostegno Di un uomo Perché ci sono Alcune donne Che vanno Alle ricerche Di un uomo Per avere Un sostegno Per avere Una mano economica Queste non Sedurranno mai O se sedurranno Troveranno Dei Come dire Degli sfigati Che Alla fine Diciamo Poi metteranno Tutta una serie Di vincoli Quindi Questo è una cosa Fondamentale Prima di tutto Curate il prodotto E il prodotto Siete voi Ma il prodotto Che siete voi Non dovete essere Soltanto L'aspetto fisico Ovviamente L'aspetto fisico È fondamentale È importante Ma non come Bellezza in sé Proprio come Capacità di interagire Certo Più belle siete Più vi sentirete Desiderabili Ma La cosa fondamentale È creare Una forza interiore Solo le donne Che hanno una forza interiore Che non temono L'abbandono Che hanno affrontato Il demone dell'abbandono Che hanno affrontato Il demone del rifiuto Che hanno affrontato Il demone della disistima Che hanno affrontato Il demone Della paura Di perdere una persona Sono quelle Che avranno Più capacità seduttive Perché Riusciranno A non essere Bisognose E quindi E concentreranno Le proprie energie Su se stesse E diventeranno La prima scelta Perché È meglio Essere La prima scelta Di una tua Seconda scelta Che la tua Che la seconda scelta Di una tua prima scelta Perché Questo è il punto di fondo Migliorare se stessi Comunque Ti aiuterà A catturare Soprattutto Ma a tenerti Stretta Un uomo A non A non Diciamo A non lasciare Che Questo se ne vada Proprio perché Sentirà il bisogno Di te È ovvio Che Diciamo È ovvio Che È anche importante Da un certo punto di vista Modificare Delle cattive abitudini Perché spesso Ci sono donne Che hanno cattive abitudini Ad esempio La trasandatezza Il disordine Una donna Deve essere ordinata Deve anche Avere delle skills Diciamo Che possono essere utili Per attirare un uomo Diceva il detto Donna cuciniera Prendila per muliera Ma in realtà È una skills Per una donna Tra le tante Ovviamente C'è anche questa Secondo me Quindi Sviluppa Tutte le tue Capacità E Lascia perdere Ad esempio Il look Unisex Il look Diciamo Con gli anfibi Il look Con i pantaloni larghi Diciamo Cerca di valorizzare La tua femminità Senza peraltro Scadere Dalla parte opposta Senza peraltro Scadere Nel mignottone Da corsa Ma soprattutto È l'atteggiamento Mentale L'atteggiamento Mentale Della seduttrice E quello Della donna Che sa Ad esempio Generare Competizione Con gli uomini Un'altra Cosa Da sfatare È che con il fascino Si nasce Non si nasce Con un bel cazzo Cioè Il fascino Si costruisce Si costruisce Giorno per giorno Ci sono persone Che diciamo Lo imparano In modo inconscio Ma Non è che È un retaggio Diciamo Di una vita precedente E quindi C'è chi nasce Col fascino E c'è chi non nasce Il fascino Si può imparare Come si può imparare Una lingua Come si può imparare È ovvio Che se Come dire Hai consolidato Per dire Un linguaggio Non verbale Una camminata Da bersagliere Beh dovrai Per 40 anni Da donna E camminato Con Come dire Gli anfibi Con camminata Da bersagliere È ovvio Che dovrai Imparare Dovrai metterci Più impegno Per imparare Questo nuovo Modo di essere Ma il fascino Si impara Come tutte Le cose Della vita Si può Credere Che le cose Siano innate È perfettamente Sbagliato Perché Come dire È come È come Un marchio Di fabbrica Che tu Non riesci Più a gestire Questa è una Delle cose Peggiori Una delle credenze Peggiori Che le persone Che le donne Soprattutto Anche gli uomini Possono avere Ci sono un sacco Di atteggiamenti Che si possono Imparare Che Diciamo Che possono Essere Molto utili Ad esempio Nel linguaggio Non verbale Ad esempio Nel modo Di vestirsi Ad esempio Nel mostrarsi Diciamo Istituzionali Ma misteriose Una donna Deve comportarsi Da signora Però Allo stesso modo Deve essere Femminile Allo stesso modo Deve Saper Accavallare Le gambe Magari Con le calze Velate Deve Saper Si muovere In modo Come possiamo dire Leggiadro Deve Deve Saper Utilizzare Lo sguardo Deve Imparare Ad utilizzare La comunicazione Non verbale La seduzione La capacità di seduzione La capacità di affascinare Si può imparare Anzi Dirò di più Che le persone Che imparano Quali sono le regole Alla base Del fascino E quali sono le regole Alla base Della seduzione Diventano più brave Degli altri Perché Certo C'è il talento Come Maradona Che Però Lo stesso Maradona Si ha giocato bene a calcio Ma ha fatto una brutta fine Perché non sapeva gestire Le sue emozioni Vale anche per Mike Tyson Talento nella box Ma Ci sono Dei pugili Come ad esempio Rimanendo all'ambito del pugilato Floyd Mayweather Che magari non aveva quel talento Ma L'allenamento La costruzione L'ha reso ancora più bravo E poi Se uno fa una cosa Senza sapere Quali sono le regole Nel momento in cui Questa cosa non funziona più Non sa mettere Non sa più Diciamo Gestire Quindi Io credo Proprio che La cosa fondamentale Sia quella di imparare Di allenarsi E Di sviluppare Quindi anche Di sviluppare anche La capacità E sviluppare anche La capacità Di Imparare a gestire La comunicazione Imparare a gestire Come possiamo dire Anche Come dire Definire dove Cercare Le persone Perché Anche la credenza Che ha Se l'amore arriva Lo troverai comunque Ma non è mica vero Cioè se vuoi Se vuoi ottimizzare Le possibilità Di trovare L'uomo giusto Devi imparare A frequentare Gli ambienti giusti Se vai sempre Da ciccio Giro pizza 5 euro Se vai Da gigino Il bibitaro È difficile Che troverai Il professionista Affermato O lo sceico Arabo Se ti interessa Una situazione Del genere O che troverai Il premio Nobel È ovvio Che devi imparare A frequentare Degli ambienti Dove è più probabile Trovare D'altra parte È come dire Se io vado a pescare E voglio pescare Trote Beh è difficile Che troverò Le trote Nel mare Quasi impossibile Se per non dire Impossibile Come se cerco Di pescare L'orata Non la troverò mai Nei fiumi di montagna Quindi frequentare Gli ambienti giusti È molto importante Ma bisogna avere Un'idea Di quello che si vuole Perché Questo è un altro Concetto fondamentale Diciamo Noi dobbiamo Puntare sempre Al meglio Per noi stessi E definire Sempre un obiettivo Non bisogna Sminuirsi Non bisogna Cedere Alla disperazione Gli Se perdo questo Perdo tutti Non dobbiamo Non dovete Frequentare Uomini Che non ti danno Quello che tu vuoi Se un uomo Non ti dà Quello che tu vuoi Fuori dai coglioni Istantaneamente Bisogna avere Per fare Quest'atto di coraggio Perché Imparare a lasciare Imparare a chiudere Imparare a tagliare È la cosa Fondamentale Per sedurre Per conquistare Se tu impari A fare questo Niente Nessuno Ti impedirà Di diventare Una seduttrice Di riuscire A conquistare La persona Che vuoi Più Le elemosinerai L'amore Più Penserai Che basta Darla E seduci Se tu la dai Non sedurrai Niente Quello ti tromba E puoi rivederci Grazie Mentre invece Bisogna mettere Dei vincoli Questo è Un altro Punto Fondamentale Darla via Come se non ci fosse Un domani Non è Non è Seduscente Quindi prova A gestire Le cose In questo modo E vedrai Che cambieranno Drasticamente Cambierà drasticamente Il tuo modo Di vivere Le relazioni Sentimentali Affedenti